La situazione coronavirus a Balderice al momento è sotto controllo. Abbiamo avuto un caso positivo da Covid-19, devo dire che la situazione adesso è tranquilla perché il paziente è uscito indenne, tra l'altro era anche asintomatico e quindi ha fatto la quarantena a casa e aspetta di fare ora il secondo tampone. Stiamo adottando tutte le misure per contrastare e rallentare questo fenomeno. Naturalmente siamo più accorti possibili, più attenti possibili, abbiamo risposto tutte le misure di sicurezza, i controlli in tutto il territorio di Baldericino tramite la Polizia Municipale e i carabinieri che ci stanno dando una forte mano. Devo dire che ho chiesto anche al Sua Eccellenza Prefetto dei rinforzi tramite l'esercito italiano perché ritengo che in questo momento ben preciso dobbiamo dare una sterzata. La situazione non è sicuramente semplicissima. Abbiamo visto che ci sono comuni già che sono stati dichiarati in zona rossa come il Comune di Salemi e quindi dobbiamo essere più accorti possibili. Non ci possiamo assolutamente cullare, è il momento di prendere decisioni importanti affinché possiamo veramente rallentare questo fenomeno. I suoi cittadini come stanno rispondendo alle restrizioni messe in atto proprio per contrastare l'emergenza? Devo dire che nelle ultime 48 ore molto meglio. Inizialmente qualche defiance, qualche cittadino che usciva anche per motivi futili c'era. Adesso devo dire un po' meno, però non dobbiamo assolutamente mollare. Il nostro obiettivo è quello di attuare tutte le restrizioni che il Governo nazionale e il Governo regionale ci hanno imposto perché è fondamentale rimanere a casa. Questo lo voglio ribadire ai miei cittadini perché è l'unico antidoto per contrastare questo maledetto coronavirus.